Non ti scandalizzare, sto mangiando la pizza, IMS 1858, protezione sociale, IMS conforme al bando, allora, discriminazione al contrario nei confronti dei russi, perché scusa, perché è una ragazza che fa un corso in ristorante, sta facendo un corso in Europa, comunque non so se è Sassonia, Baviera, viene discriminata, no mi sembra in Francia, viene discriminata e praticamente non può più svolgere l'attività, perché i ristoranti la discriminano e la eliminano dai concorsi, da questo corso, perché ammainano le bandiere russe in ogni hotel, cioè ma di che cosa stiamo parlando, ma non è che Putin è la Russia, siamo noi che facciamo la morale alla Russia, ma i russi non sono d'accordo con Putin, allora perché ammainiamo la bandiera russa? Guarda, ti faccio un esempio, io a scuola polenizzavo con la mia insegnata, io ero di destra una volta, io ho votato Berlusconi, ho votato La Lega, io ero di destra, io adesso sono comunista, io ero di destra, anche perché magari nella vita si cambia, ci sono pure i 68 che erano fascisti, quindi se ti vuoi disiscrivere al canale perché ero di destra lo puoi fare e ti ammiro, perché io ho cambiato completamente la mia visione politica, poi nella mia vita ho avuto delle esperienze che mi hanno fatto capire certe situazioni, quando vai a lavorare sotto padrone, certe situazioni mi hanno fatto capire che è molto meglio non votare e essere in quella zona estra parlamentare, ma a parte questo, no? Eh ma perché l'Occidente deve esportare la democrazia, dicevo io, no? Quando c'era la guerra all'Iraq, no? Ma di cosa stiamo parlando? Cioè è ovvio che esportare la democrazia, presente la dottrina di Oriana Fallaci, no? La libertà, hai visto l'Afghanistan, la libertà cosa ha prodotto? Cioè noi non capiamo la Russia, perché noi ragioniamo con la nostra testa, poi questi terzomondisti di sinistra, i pacifisti va bene, ma i terzomondisti ci sono anche quelli di sinistra che invece adesso fanno la morale, le libertà dell'Occidente, ma quando l'Occidente faceva le guerre per la libertà, tra virgolette libertà post 11 settembre, non andavano bene. L'ha detto anche il maresciallo della Nato, ha detto ma quelli che adesso sono i primi guerrafondai, i primi erano i primi, prima erano i primi pacifisti anti-americani, quindi c'è qualcosa che non torna, no? È tutto un cortocircuito. E' tutto un cortocircuito.